Meghan Markle e il principe Harry sono stati accusati di pretendere di essere vittime quando sono in grado di badare a se stessi molto bene mentre la coppia affronta un contraccolpo. Meghan Markle e il principe Harry sono stati avvertiti che le persone sono assolutamente stufe della coppia che afferma di essere vittima. L'ex biografa di Harry, Angela Levin, ha detto a Tolcredio che il pubblico poteva vedere attraverso il lamento costante della coppia. Ciò avviene tra le continue speculazioni su una spaccatura tra la coppia del Sussex e il resto della famiglia reale. La signora Levin ha dichiarato. Volevano andarsene, volevano creare una vita indipendente. Hanno un sacco di soldi in arrivo se fanno il lavoro necessario. Hanno comprato una casa con 16 bagni, non riesco mai a superarlo. Quindi, sono in grado di badare a se stessi, provano bene. Il commentatore reale ha continuato. Sono nei notiziari quasi ogni giorno lamentandosi o parlando di qualcosa di nuovo che stanno per fare. È tutta una finzione. È sono una vittima un giorno. E sto salvando il mondo il giorno dopo. Questo è uno dei tanti motivi per cui le persone sono assolutamente stufe di loro. Il presentatore di Tolcredio Mike Graham ha risposto. Penseresti che nel bel mezzo dell'Afghanistan, nel mezzo di quella che è probabilmente la più grande crisi del mondo da molto, molto tempo, non farebbero tutte queste pubbliche relazioni. Punto. Ciò avviene tra le affermazioni secondo cui la coppia si aspetta di avere un periodo molto impegnativo in vista del ritorno al lavoro dopo il congedo parentale. Il duca e la duchessa del Sussex hanno preso il congedo parentale dopo la nascita della figlia Lili a maggio. Ma la coppia che ha lasciato i doveri reali l'anno scorso per una nuova vita in California. Sta per entrare in un periodo molto impegnativo, secondo il biografo reale Omid Scobie. Il signor Scobie, autore di Finding Freedom, ha dichiarato a Good Morning America. Li abbiamo visti saltare da un grande progetto all'altro, soprattutto quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, ma al momento sono in congedo parentale, godendosi quel momento importante in famiglia da casa. Ma stiamo per entrare in un periodo molto impegnativo per la coppia quando tornerà al lavoro.